Aggiornamenti sullo stato di salute di Ellie Cotonelli Allora, il video l'abbiamo pubblicato ieri, ma in realtà, ecco che parte, dove stai andando? Ecco, come vedete è attiva. Il video che abbiamo pubblicato ieri, in realtà, era di martedì, quindi Ellie è stata sterilizzata martedì. E già dal secondo giorno era bella attiva, saltava, mi portava i giochini, vero Ellie? Anche se comunque non vanno fatti stancare, anche perché nonostante sia stata un'operazione in laparoscopia, in ogni caso ha dei buchini che devono rimarginarsi e quindi è bene che non faccia movimenti eccessivi nei primi giorni. Ellie, voglio fare vedere i tuoi buchini, possiamo? Lo so che questo è il tuo gioco preferito, non so se ve lo ricordate, Io ho fatto un video, tipo tre anni fa, su come realizzare un gioco per cani fatto in casa e ho fatto praticamente la bottiglietta con dentro la pasta, messa dentro un calzino, che come vedete adesso fa veramente schifo, ma l'abbiamo portato con noi perché è il suo gioco preferito in assoluto e quando c'è questo gioco Ellie è capace appunto di mordere, di fare qualsiasi cosa. Ellie, 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 possiamo vedere il tuo pancino? Ellie, seduta, seduta Ellie, brava, aspetta, fai vedere il tuo pancino, vieni qua, vieni qua, non me lo vuole fare vedere il pancino, non me lo vuole fare vedere, va bene, te lo tiro, vai. E quindi vi dicevo che è stata sterilizzata martedì, quel giorno è stato molto impegnativo perché Ellie è stata tutto il pomeriggio e la sera sul divano senza muoversi, poi ha fatto una pipì lunghissima e ha comunque voluto mangiare sia di pomeriggio quando dopo circa due ore dal momento in cui siamo tornati a casa e poi in serata ha voluto mangiare. Devo dire che anche se lei di solito ha problemi con il pancino, è molto delicata, l'intervento non ha inciso assolutamente su questa cosa, anzi è stata bene, sta mangiando anche nuove cose, ieri abbiamo mangiato i pezzettini di pera, vero Ellie? Come snack e ti sono piaciuti tanto, tanto e tanto. E quindi voglio consigliarvi la clinica delle Alpi a Torino perché sono stati tanto tanto bravi, e Ellie ha veramente dei segnetti minuscoli che ora cerco di farvi vedere se riesco, se Ellie me lo concede. Ellie, vieni qua, vieni qua, io sono in pigiama ovviamente, vieni, 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 non scappare, fatti vedere, fatti vedere. Allora, vieni qua, vieni, vieni, aspetta, 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 ecco qua, riuscite a vedere, questi sono i due buchini che Ellie ha sul pancino, perché ovviamente da un lato inseriscono la telecamera, immagino, e dall'altro buchino riescono ad operare. E quindi è andato tutto bene, come vedete è attivissima, io ero preoccupatissima, in realtà è stato abbastanza semplice, me l'hanno data dopo pochissimo, l'hanno operata e dopo mezz'oretta ce l'avevo in braccio, anche se era un po' rinco, però me l'hanno data, l'ho portata a casa, piagnucolava, aveva dei dolorini sicuramente, ma è durato pochissimo, hanno fatto loro l'antibiotico, hanno dato gli antidolorifici, e io non ho dovuto dare assolutamente nulla, quindi è tornato tutto alla normalità. Ci hanno dato un vestito orribile da indossarci e ci hanno dato, l'abbiamo comprato, che è quello che si mette dopo la sterilizzazione per evitare il collare elisabettiano, e quindi è un vestito dove Ellie sembra un personaggio di Star Trek, pubblicherò una foto di Ellie con questo vestito orribile, su Facebook magari, sulla pagina di Fashion Dog Italia, e quindi di notte comunque glielo tengo sempre, così dato che non la posso controllare mentre dormo, evito che lei si possa leccare le ferite. Di giorno preferisco controllarla, tanto non si lecca, a parte il terzo giorno che un po' ha avuto forse prurito perché le ferite si erano rimarginate, e voleva leccarsi, in realtà poi non c'è stato questo problema. Bene, grazie a tutti per aver fatto, ecco stava cadendo il telefono, gli auguri ad Ellie di pronta guarigione, infatti è guarita col vostro amore e con i vostri pensieri positivi. Vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo video. Vero Ellie? Bene. A presto, Bawamici!